L'ASL Salerno attraverso il Dipartimento di Prevenzione ha disposto un servizio di disinfezione che sarà effettuato sul territorio urbano pubblico di tutti i comuni rientranti nella propria competenza territoriale. Il trattamento verrà effettuato, spiega una nota stampa dell'ASL, con impianti irroranti montati su autocarri che tratteranno la sede stradale fino ad un'altezza di 3 metri e le aree esterne accessibili delle strutture a gestione ASL. Nelle zone non raggiungibili dall'autocarro verranno utilizzate attrezzature manuali. I cittadini sono invitati ad adottare le consuete misure di cautela atta ad evitare possibili contaminazioni a persone, cose, animali o generi alimentari come il ritiro della biancheria dall'esterno, la chiusura degli infissi e la protezione degli animali di affezione. Le amministrazioni comunali provvederanno ad avvisare la popolazione con impianti sonori prima dell'utilizzo del trattamento che sarà effettuato nelle ore serali a partire dalle ore 20. Secondo il calendario stilato dall'ASL Salerno, la disinfezione nel territorio del Vallo di Diano comincerà il 27 marzo. Dai comuni di Montesano sulla Marcellana, Buonabitacolo, Sanza, Casalbuono, Padula e Sala Consilina. Si continua poi il 28 marzo nei comuni di Sassano, Sant'Arsenio, San Pietro Altanagro, San Rufo, Monte San Giacomo e Teggiano. E ancora il 30 marzo la disinfezione si terrà nei comuni di Auletta, Pertosa, Caggiano, Salvitelle, Petina, Polla ed Atena Lucana.